Oggi andremo a parlare della Cina, la fabbrica del mondo, dove viene ideato Ma gli italiani sanno davvero che cos'è Made in China? Andiamo a chiedere un po' Linovo, HTC, Hyundai, Toyota, Samsung, Toyota, Toshiba La Toyota, Samsung, Huawei, HTC, DJI Huawei, for sure, it's Chinese, Samsung, no, Sony, no really, Lenovo, May Isense, Great Wall, Ju, Huawei, Hisense, Great Wall, Medea Panasonic? Giapponese in effetti Toshiba, che è giapponese Hyundai, Toyota Ok, ho detto tutti quelli che non so Ah, la domanda era quale è il cinese Ho capito il contrario, per quello che ne sbagliavo Sony Huawei Hyundai Toyota Toshiba HTC Questo è Huawei E questo che si vede? Eh sì Media Ok Sono i nomi inglesi Però penso che sono i marchi cinese Toshiba Sony No, ok, iniziamo bene Samsung No, nemmeno Si fanno tutte Toyota LG Di neanche tu qua Qual è? Panasonic Eh le vedette tutte Toshiba Samsung Huawei Huawei This one Great Wall LG Hyundai Sony Oh my god Panasonic Here Great Wall HTC Huawei Made in China Abbiamo tutti bisogno di Made in China Perché è sempre più fatto bene Quindi a differenza di come dicevamo prima Che erano tutte cose contraffate C'è sempre un miglior Made in China Secondo me Made in China Non Non fa tante cose belle Tante cose buone Di buona qualità Made in China è molto buona Perché ci permette di avere i telefoni Perché prima non potevamo comprare i telefoni Però adesso Riusciamo a comprare anche gli abiti Ci sono tante cose che I cinesi ci hanno favorito per comprare Quindi è più conveniente secondo me Che erano delle qualità di clienti, ma anche se non è una buona quantità di clienti, ma la Cina è uno dei migliori posti per comprare clienti per ora e per fare business, e mi piace davvero la Cina. La Cina è un paese molto importante per tutto il mondo, quindi sono pronti di loro, e ovviamente le persone che sono da lì devono essere pronti di loro, perché le importanti brand vengono al mondo, quindi sì, è ok. Sicuramente più convenienti, la qualità, non ho le competenze per poterlo dire. Dipende per che settore, nel senso per le cose su cui sono storicamente forti, va bene voglio dire il Made in Cina, se mi parli delle porcellane, ceramiche o magari articoli tecnologici, ok? magari se mi parli di vestiti o di altre cose per cui è più rinomato il Made in Italy o il Made di altre nazionalità, voglio dire, non lo so, non è che mi entusiasmi molto. Anche qua, tutti abbiamo telefono, orologi, bigiotteria, queste cose qua, accessori soprattutto, accessori diciamo. Eh sì, anche i telefoni, la tv, le cose che compro, sono made in Cina. Clothing, electronics, toys, toys. Ho un computer Lenovo, adesso visto che è cinese. Tipo i piccoli oggetti per prendere il tè, quello che adoro, bellissimo. La ceramica cinese, quello che è il prezioso, più prezioso che vedo e a casa mia quello c'è. È tutto Made in Cina, anche la sciarpa del Milan è Made in Cina. No, non è ora, si chiamo la sciarpa delグatosto. Voi, come. Come. Hai ragazzi? Mi parla di questi entramblanti. Ho? Il rischio, come come la sciarpa delグatosto? Di sinistra che c'è il migliore, ecchè la politica? Si, tu hai ragazzi, faccio molto bene. Come. Attre che mi parli di nuovo forse chiara, e bisogna dire mi parli che si face mai il nostro canale. La messa come è un certo modo. La scena già di ricerca dei d'amore là ilbetto faccio di adoro. La scena è non si fa, è un certo modo. ... Il secondo modo, il secondo modo, per l'altro, la persona molto più bella e molto più bella, non è molto importante. Come un'altra cosa che sia un'altra cosa che portano la gente più bella, ma un'altra cosa che ha fatto un'altra cosa che ho sempre bella. Perché questo, che per l'unico, il secondo modo, si deve avere un'altra cosa che è molto bella. Ma tornò un'altra cosa che stai facendo l'altra cosa, mi piacevole prima cosa che sono un'altra cosa. e la più importante è di comprare un'alte di giù è molto bene ora ci sono iniziato a qui